Piazza Italia diventa un parco giochi attrezzato per i più piccoli. Nel cuore pulsante della città dell'Aquila, nella zona di Santa Barbara, uno dei primi quartieri ad essere riqualificato dopo il terremoto, lo storico parco del Beato Cesidio è pronto ad ospitare le oregliete dei più piccoli. La riqualificazione di questo parco rientra in un progetto più ampio del Comune dell'Aquila per la valorizzazione delle aree verdi cittadine. Vedete, in quella che è l'idea dei massimi sistemi, il progetto della città, l'alta qualità della vita e così via, accanto a questi sistemi massimi, poi esiste la vita delle persone normali, escludendo magari noi del Comune che lavorando attualmente 12-14 ore al giorno non abbiamo l'idea di com'è la vita delle persone normali, fatte del tempo libero, esigenze, c'è i bambini. Ad esempio io mi ricordo quando avevo figli piccoli, quando avevo la possibilità di portarli ai giardinetti e così via. Ed è anche questa la qualità per gli anziani, perché a un minuto si incontra qui, c'è il tavolino, ne metteremo un altro, magari ti fai una partita a carta e così via. Quindi adesso stiamo intervenendo, quest'anno e il prossimo anno in basso ai soldi che riusciremo ad avere e andremo a realizzare queste opere. Questi interventi che i 100.000 del comprensorio cittadini fanno, vengono poi affidati ai cittadini stessi. Allora, quando noi facciamo una cosa per conto dei cittadini, i cittadini poi le devono conservare.